Procediamo alla mistagogia dell'acqua, che è molto interessante. La dividiamo in due parti, la parte rituale dopo e la parte mistagogica prima. L'acqua è un elemento primordiale, è uno dei quattro elementi primordiali, tanto che viene sfruttato anche dai maghi e dagli astrologi. E' un elemento primo, perché lo spirito di Dio veleggiava sulle acque del caos. La formula chimica la sappiamo tutti, H2O, l'ossigeno ha due valenze, l'idrogeno ha una valenza, ecco perché H2O. Però sono due elementi associati, che se si scindono danno luogo a fuoco una reazione chimica, dove c'è un combustibile, per cui l'acqua e il fuoco. Entrambi l'acqua e il fuoco rappresentano lo spirito, che dà la vita, il calore, dà tutto. Siccome è ricchissimo di significato, sotto qualunque punto di vista, è usitatissimo questo significato non soltanto a livello naturale, ma diciamo a livello mistagogico, analogico, spirituale, nella Bibbia e anche nella liturgia. Ecco perché tra i diversi elementi è quello che meglio si presta alla mistagogia, perché ci introduce meglio di qualunque altro elemento nella comprensione del mistero della vita. L'acqua, sia quella che lava, sia quella che disseta, sia quella che dà la vita, che sono le tre principali funzioni dell'acqua, si presenta in natura allo stato liquido, allo stato gassoso, o allo stato anche duro, solido. Abbiamo così il ghiaccio, abbiamo l'acqua liquida, abbiamo l'acqua gassosa, una nube e l'acqua gassosa. La temperatura ha molta importanza nell'acqua, perché una data temperatura evapora e passa dallo stato liquido allo stato gassoso, le nubi che nascono dal mare, l'acqua evaporata, poi produrranno la pioggia. Più interessante è il fatto della solidificazione dell'acqua, che, contrariamente agli altri elementi di natura, solidifica a quattro, sopra a zero, mentre tutti gli altri elementi solidificano più a freddo, più c'è solidificazione. Un'eccezione fa l'acqua, ed è providenziale questa eccezione, perché se l'acqua solidificasse come gli altri elementi a più bassa temperatura e allora cadrebbe nel fondo del mare e avremmo tutta la terra sotto, coperta di ghiaccio, la terra sarebbe inabitabile, gli animali non potrebbero vivere, mentre a quattro di temperatura galleggia sull'acqua e il ghiaccio, cioè, galleggia sull'acqua e qui sotto il ghiaccio tornare abbiamo di nuovo acqua più fredda a due, tre, quattro, sotto zero. Si presenta come acqua del cielo ancora le cataratta del cielo per le antiche e attraverso la pioggia che dal cielo scende l'acqua si presenta come acqua di mare la grande distesa dei mari dove sono concentrate le acque le acque del cielo sono insipide non hanno sali mentre le acque del mare sono salate e amare perché hanno disciolto tutti gli elementi che sono sulla terra il sodio il potassio e tutti gli altri elementi che rendono l'acqua quanto più solida è cioè meno liquida tanto più amara come per esempio l'acqua del Mar Ross che è più pesante e più amara le acque del Mediterraneo sono buone sono più salate delle acque atlantiche si presenta come anche acqua di terra le sorgenti che danno luogo a fiumi per cui abbiamo l'acqua del cielo l'acqua del mare l'acqua dei fiumi o delle sorgenti non accendiamo alle acque umane Sant'Agostino ho letto una tesi di laurea che una nostra sorella ha fatto anche in base alla nostra istruzione che abbiamo fatto qui a Margi Faraci e a quella che abbiamo fatto a Percusa su Sant'Agostino l'acqua in Sant'Agostino ottenendo il massimo dei voti il plauso di tutti i professori e la stampa della sua tese oltre la lode e il massimo dei voti e venne a ringraziarmi perché ha preso lo spunto da quello che noi dicevamo qui ebbene Sant'Agostino che è un dottore ricchissimo in materia di acqua ci parla di due altre acque a proposito dell'acqua della vita l'acqua amniotica l'acqua del seno della donna dove nasce la vita umana e l'acqua delle lacrime che amara rassomiglia alle acque del mare che lavano che portano l'amaro del peccato ma che lavano l'uomo e il liquido amniotico che invece è insipido almeno per noi meno di nutriente per effetto che nutre la vita senza questa acqua che è un'acqua primordiale della donna la vita non potrebbe germinare per cui anche l'uomo porta l'acqua sia l'acqua del rifiuto che viene eliminata sia l'acqua amniotica della donna sia le lacrime nell'uomo e nella donna anche in questo senso è un segno un segno di vita un segno che ritroviamo le lacrime perché con le lacrime laviamo i nostri peccati con con l'acqua amniotica diamo la vita con l'altra acqua noi ci riferiamo da ciò che scoria e non giova alla nostra vita detto questo noi entriamo subito nel mistero dell'acqua come si presenta nelle scritture l'uso dell'acqua lo conosciamo serve innanzitutto per lavare tutti ci laviamo nell'acqua ogni mattina facciamo il bagno o ci laviamo nell'acqua ci purifica in senso così traslato noi ci laviamo dal peccato ci laviamo dalle nostre macchie e nel battesimo l'acqua viene usata proprio per lavarci dei nostri peccati non soltanto questo perché nel battesimo ha i tre significati che subito vedremo l'acqua serve anche per dissetare un bel bicchiere di acqua fresca o anche di acqua così a temperatura ambiente serve per dissetare senza l'acqua si muore chi ebbe acqua campò chi non ebbe acqua morì anche nel deserto è necessario portare l'acqua i cammelli portano acqua e nell'ultimo episodio l'Iraq quando è stata bombardata valentieri l'ambasciata o meglio la sede dell'ONU il il rappresentante dell'ONU l'avvocato Mello l'ultima parola che disse attraverso il telefonino portatemi acqua portatemi acqua sto morendo portatemi acqua si sentiva morire per mancanza dell'acqua ma l'acqua dà la vita di seta e dà la vita perché tutte le piante vivono per l'acqua anche noi viviamo di acqua perché la nostra percentuale di acqua è altissima rispetto alla materia solida senza acqua non c'è la vita abbiamo questi tre significati allora nell'acqua l'acqua che lava l'acqua che dissete l'acqua che dà la vita e vogliamo focalizzare attraverso le scritture queste tre funzioni dell'acqua trasportandoci dall'acqua materiale all'acqua spirituale che è lo spirito santo e lo spirito l'acqua che esce dal costato di Cristo e dà la vita perché è Cristo che ci disseta e lui risorgente dell'acqua viva che lava i nostri peccati disseta il desiderio dell'uomo di trovare Dio se stesso e dà anche la vita la vita dello spirito procediamo senz'altro allora attraverso le scritture a guardare a questa prima acqua l'acqua che lava come primo episodio prendiamo il diluvio universale la terra era corrotta c'è un'immagine bella proprio a cominciare dal capitolo sesto capitolo settimo ottavo dal Genesi che un po' rassomiglia questa vita del capitolo sesto settimo ottavo alla vita del nostro tempo la terra era tutta corrotta tutta la carne era corrotta gli uomini erano pervertiti tutti i vizi erano allignati sulla terra tanto che Dio si era emusegato dagli uomini e disse che cosa ho fatto che cosa ho fatto mi sono bendito di aver fatto l'uomo e allora ecco Noè il salvatore colui che salva il genere umano simbolo di Cristo salvatore e lui che salva l'umanità e dopo il diluvio ecco l'arca dell'alleanza che sorge di esi pacifica con l'umanità e una volta che c'è il vero Noè Cristo Signore non permetterà mai la distruzione dell'uomo leggiamo 1724 il diluvio venne sopra la terra per 40 giorni le acque ingrossarono e sollevarono l'arca che si alzò sopra la terra e le acque divennero poderose e ingrossarono assai sopra la terra